La Juve è tra le stelle d'Europa. Con il nostro tifo aiutiamola a diventare la regina. Seguila con lo Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juve Atletico Madrid. Champions League, quinta giornata della fase a Gironi, martedì 26 novembre, ore 21. Viaggio di andata e ritorno per biglietto stadio. Siamo a Lizzano, in piazza Matteotti 22. Per info e contatti Antonio 348-808-803, Cristiano 349-680066, Giuseppe 347-04, 17623. E grida con noi forza Juve, fino alla fine.